anche oggi gesù ci chiama ad essere pescatori di uomini ognuno secondo la vocazione che è stata donata chi ha veramente incontrato dio nel suo cammino non può tenerlo per sé ma sente la necessità di farlo conoscere agli altri ciascuno di noi è un missionario inviato a proclamare al mondo l'amore di dio attraverso la propria testimonianza di vita si può donare amore solo amando qual è il compito missionario che gesù ti ha affidato nel giorno del tuo più intimo incontro con lui come vorresti testimoniare l'amore di dio nella vita di ogni giorno oggi impegnati a compiere un gesto d'amore per qualcuno che ti è antipatico